Per me l'ha scritto Missaglia Sono tre giorni che Claudio Missaglia chiede di poter inviare questo messaggio Lo salutiamo Fra l'altro ho scoperto Ho scoperto mister invece una cosa particolare Che continua a rubargli sigarette in maniera incredibile È vero? È buzardo forte Questo mi è arrivato insomma Non confermi Io so che mi finisce continuamente pacchetti di sigarette E mister senza di me sarebbe perso A metà dai Metà e metà E a metà metà